Il Consiglio d'Amministrazione Nuova Ises è in una nota stampa di vendica. La Nuova Ises non può più tollerare l'assoluta assenza degli organi compatenti per definire l'avvertenza che riguarda decine di lavoratori del settore sanità privata, dei genti e loro familiari. Dopo aver assolto tutte le pratiche e aver effettuato i lavori richiesti, dopo i sopralluoghi e le prescrizioni evidenziate, siamo arrivati all'ultimo miglio, ma tutto, in modo assurdo, è fermo. Tutte le autorizzazioni sono in regola e si attende solo che l'accreditamento che fu sospeso, sottolineano nella nota, venga sbloccato. Una firma, una sola firma manca, quella del nuovo Direttore Generale, insediato da poche settimane. Rivendicano che la vicenda della Nuova Ises sia definitivamente risolta, per cui dopo un'assemblea di tutti i soci abbiamo deciso di porre in essere un'azione forte verso la Dirigenza Generale dell'Asso Salerno. Oggi saremo davanti all'Asso in Via Nizza e valuteremo le azioni da porre in essere.